Uno dei suoi quadri. Nelle sali del primo piano del Museo di Capodimonte è andato in scena per il Campagna Teatro Festival Exhibition, il nuovo spettacolo della pluripremiata coppia italo-ostraliana Cuocolo Bosetti. Pensata per i musei, la performance si interroga sulla natura dell'esibizione artistica, ma sentiamo di più dal regista Renato Cuocolo. È uno spettacolo che è creato proprio per i musei. È uno spettacolo in cammino, itinerante, si tratta di attraversare dei luoghi che forse conosciamo, però è come guardarli per la prima volta, scoprirli in maniera differente, attraverso uno sguardo interiore differente, creando proprio un museo nostro personale, un museo che abbiamo in testa. Un gruppo di 25 visitatori muniti di radioguide attraversa gli spazi museali guidati dalla voce dell'attrice performer Roberta Bosetti, che riflette sul posto dell'arte nella nostra vita. L'arte ci aiuta in questi momenti? Che cosa significa l'arte nella nostra vita? Ma queste domande, così in modo abbastanza disincantato, diciamo, cerca di rispondere Exhibition. Naturalmente si risponde che l'arte ha un ruolo molto importante nella nostra vita.